Perché scegliere un jeans contro un pantalone in pelle o un pantalone da turismo? Questa è la domanda a cui vogliamo rispondere con questo video oggi. Ciao, sono Samuele di Fuori e Strada e oggi appunto parliamo di jeans. Spesso il cliente tipo che entra nel nostro negozio ci chiede appunto di provare un jeans per fare una comparativa con quello che ha il suo pantalone. Il jeans va ad essere utile nel contesto nel quale vogliamo fare una gita fuori porta vicina. Noi siamo di Brescia quindi solitamente il nostro cliente tipo che ci chiede appunto di provare i jeans ci dice vorrei utilizzarlo per andare questa domenica o comunque nel weekend sul lago con la mia compagna a fare un giro breve, qualcosa di semplice e vorrei provare appunto questo jeans. Noi ovviamente in negozio abbiamo varie alternative di varie ditte, abbiamo Alpinestar, abbiamo OJ, abbiamo Riccia in questo caso. Il jeans ha un look più casual, magari può essere utilizzato d'estate o comunque verso la mezza stagione quando fa ancora caldo, quando solitamente non piove perché comunque il jeans non è antiacqua o comunque quando non fa freddo perché alla fine un pochino di aria traspira comunque. Il jeans infatti come dice il nome per quanto riguarda la moto è un misto di jeans e Kevlar e la sua certificazione va dalla A fino alla AAA. La A è la certificazione base quindi un jeans solitamente certificato in classe A è morbido, è più elasticizzato, è più comodo, le protezioni interne sono sempre di livello 1 e appunto il Kevlar è tra virgolette meno presente, è presente sulle aree più a rischio. La AAA solitamente invece caratterizza un jeans più resistente, più rigido, più impegnativo da portare. Oggi parliamo di un jeans che vediamo che piace tanto al nostro pubblico e si tratta appunto del jeans EPIC. Per quanto riguarda questo jeans le sue caratteristiche sono appunto la classe A, quindi il jeans risulterà morbido, le protezioni interne sono presenti come livello 1 solo sul ginocchio, ovviamente in questi jeans è possibile inserire anche il fianchetto laterale. In questi jeans in particolare troviamo le protezioni D3O. Come vediamo qua un esempio, il D3O è un materiale morbido al tatto, infatti per esempio questa è una protezione Ghost livello 1 della D3O, come potete vedere si piega molto facilmente, però in caso di urto va a reagire molto meglio rispetto a una classica protezione livello 1. Come dicevamo prima i jeans solitamente vengono venduti con protezioni livello 1 ed è questo il caso appunto anche degli EPIC della Riccia che troviamo qua sotto. Però giustamente ogni cliente è un caso a sé, di conseguenza se sei una persona che vuole guardare tanto alla sicurezza, allora si può nel caso mettere una protezione più spessa rispetto a quella che si trova all'interno del jeans, magari un livello 2. Se invece sei una persona che soffre tanto le protezioni, c'è la possibilità di mettere le Ghost. Queste sono sempre un livello 1, però sono più piccole rispetto a quelle in dotazione al jeans. In questo caso come jeans esemplificativo abbiamo il Riccia EPIC. Riccia è una marca belga che è molto presente, va molto forte in Europa, in Italia per il momento lo abbiamo solo noi di fuori strada come store fisico e anche online. E devo dire che da quello che vediamo soprattutto in negozio, molti clienti sono veramente soddisfatti non solo di EPIC ma in generale di tutta la gamma Riccia. Questo perché? Perché solitamente il jeans è sì elasticizzato ma si sente che è comunque un po' rigido. Per quanto riguarda invece Riccia troviamo sempre molto riscontro da parte dei nostri clienti che dicono che lo sentono appunto bello comodo, bello slim, si sentono diciamo come se stessero portando un jeans classico, un jeans casual. Ed è questo l'obiettivo soprattutto di EPIC. Jeans che potete trovare in negozio nel colore black, nel colore blu e nel colore grey sia per uomo che per donna. Quello che contraddistingue appunto questo jeans è la classe, classe A, quindi la base tra virgolette per quanto riguarda il jeans da moto, ma questo è un pro per chi vuole già provare a entrare nel mondo dei jeans da moto per cercare di capire che cosa vuol dire portare appunto un jeans da moto. Il Kevlar è presente soprattutto nella zona superiore. Viene coperto appunto da uno strato interno in tessuto morbido per evitare appunto che dia fastidio a chi lo porta. Le protezioni come dicevamo sono di 3 o livello 1, opzionali anche sui fianchi e possono essere regolate. All'interno c'è una tasca che appunto contiene la protezione con dei velcri che possono essere utilizzati per regolare appunto la protezione più alta o più bassa. Adesso parliamo un po' di prezzi. Solitamente un jeans da moto diciamo di media gamma va a costare appunto dai 140-150 euro scontati. In questo caso il Riccia Epic sia per uomo che per donna viene a costare di listino 180 euro e come vedrete sul sito l'abbiamo scontato a 150 euro circa. Quindi siamo all'interno della fascia media di un jeans molto comodo e soprattutto con delle protezioni di 3 o. Il di 3 o è un materiale veramente ottimo. In i prossimi video parleremo oltre che di altri prodotti che abbiamo in negozio anche di alternative a questi jeans magari di qualche altra marca o magari anche un modello diverso. Potremmo per esempio parlare degli Apache, della Riccia che sono dei pantaloni cargo. Facci sapere se sei curioso di scoprire quelli che sono appunto gli altri prodotti che abbiamo in negozio e se vuoi lascia pure un commento. Ti aspettiamo a provarli in negozio presso o fuori strada oppure se vuoi dargli prima un'occhiata sul sito cerca pure su tuttoperlamoto.it Epic oppure nella sezione jeans. Il meglio al miglior prezzo.